Nessun passo indietro, la mia tenacia e la mia vittoria e secche decisa la risposta dell'attrice pornografica e cantante salernitana Tina Ciaco in arte Priscilla Salerno, decisa a scendere in campo in politica quale candidata consigliera alle prossime elezioni amministrative della città di Salerno nella lista del nuovo partito socialista italiano. Dopo la presa di posizione del parlamentare salernitano Gigi Casciello di Forza Italia, che si è dichiarato pronto a ritirare il suo sostegno alla campagna elettorale che vede convergere il centrodestra con il candidato sindaco Michele Sarno. I diritti delle donne non si tutelano certo candidando al consiglio comunale di Salerno la pornostar Priscilla Salerno, ha detto Casciello, a cui subito ha fatto replica il giornalista Gaetano Amatruda con un post su Facebook che invece ha dichiarato il suo sostegno all'attrice e così ieri sera una riunione tra le forze politiche in campo per sostenere Michele Sarno avrebbe dovuto spegnere le polemiche, ma di fatto non è stato così. E di oggi anche la riflessione di Mario Polichetti, commissario ad interim dell'Udc a Salerno, che ha voluto chiarire che nella sua qualità di coordinatore provinciale dell'Udc per Salerno non è stato mai contattato da chi che sia per discutere di questa candidatura dell'imprenditrice ARD candidata nel centrodestra e di evitare strumentalizzazioni, ma di concentrare invece le attenzioni su argomenti che interessano gli elettori. E non tarda ad arrivare la replica della stessa Priscilla Salerno, finita nel ciclone delle polemiche che dal canto suo ricorda chi la contesta e la etichetta che negli ultimi anni ha condotto battaglie importanti sui rischi del revenge porn ed è stata in prima fila per denunciare le violenze contro le donne. Se la candidatura nella lista del nuovo PSI fosse Tina Ciaco non riceverebbe oggi al conveto, ma invece dire Priscilla significa scatenare una serie di reazioni, addirittura un'uscita dalla coalizione che appoggia il candidato Michele Sarno. Non so se essere più felice o più sconcertata di questo, sinceramente, perché io porto avanti delle battaglie molto importanti, come sono state sempre, diciamo, apostrofitare come super importanti, revenge porno, violenza contro le donne, pedopedofilia infantile, i rischi che ci sono con il web e sono veramente, non lo so, sono adesso in un momento di particolare, sto pensando che forse non è servito a niente i miei tre anni di battaglia collaborare con i più grossi magistrati d'Italia, con l'associazione di avvocati, dare credito ai giovani avvocati affinché ascoltassero i miei convegni, entrare nelle scuole e informare i ragazzi del rischio che ci possa essere usando male internet e oggi mi è stato detto noi non condividiamo la tua battaglia, quindi siete per la violenza sulle donne, per la violenza domestica, per la pedofilia, quindi va bene se c'è qualcuno che mi butta dell'acido in faccia e mi sfreggia, va bene questo. Oggi l'onorevole Cascello di Forza Italia e il dottore Mario Polichetti dell'Udc parlano di etica e dicono se c'è Priscilla in lista noi usciamo, lei cosa risponde oggi? Spero che vadano a vedere sul vocabolario la parola etica e il significato, perché io di etica ne ho da vendere e il fatto che non hanno avuto nemmeno il coraggio di dirmelo in faccia, nemmeno il coraggio di venire a questa riunione per me è già una vittoria, per me è già una vittoria. Sta pensando di fare un passo indietro? No, assolutamente mai, la mia tenacia è la mia vittoria.